Licata e Canicati non perdono un colpo. Le due squadre agrigentine che guidano la classifica del campionato di eccellenza Gironea hanno vinto le rispettive gare della diciassettesima giornata e mantengono invariate posizioni e distacchi. Il Licata sul calzato di reti, Benotte, il già retrocesso Castelbuono che sta onorando il campionato, mentre il Canicati ha vinto la sfida esterna giocata sul neutro di Carini contro l'ostica Parmonval. E non è stato facile per gli uomini allenati da Nicola Terranova segnare quella rete giunta nei minuti finali di Angelo Rosella che ha permesso ai Biancorossi di mantenere la scia a Licata. Pareggia invece il Profavar impegnato nella difficile trasferta di Castellammare e adesso la squadra allenata da Giuseppe Balsamo cerca la salvezza a tutti i costi. E questa è la fotografia della seconda giornata del giorno di ritorno del torneo di eccellenza. Andando dell'ordine, Licata di Laga, allo stadio di Noliotta con le doppiette di Cannavo e Teste e le altre marcature firmate da San Giorgio con Vitto, Chiavaro e Dama. Da segnalare l'esordio in giallo-blu di Suza, Krueger, portiere classe 1999 del centrocampista 2001 Lauria proveniente dal settore giovanile. Vittoria quanto mai preziosa per il Canicati, arrivata ancora una volta al fotofinish a Carini contro la Parmonval al minuto 89 con Angelo Rosella. Alla vigilia l'impegno era considerato ostico ma non impossibile vista la buona caratura degli avversari e l'assenza di Benedetto Iraci. Ma i biancorossi, nonostante le avverse condizioni climatiche, hanno giocato una partita da grande squadra portando a casa una vittoria importante per il proseguo della stagione in vista di un ciclo di partite compresa la finale di Coppa Italia che possono dire molto per il futuro della formazione del tecnico Nicola Terranova. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, ha detto l'allenatore, e siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo. Faccio i miei complimenti alla Parmonval per l'eleganza e l'ospitalità che ci ha riservato per l'organizzazione della propria squadra. Senza dubbio, tra andate e ritorno, la squadra che mi ha impressionato di più. Per noi, un altro passo in avanti verso il nostro obiettivo. Ora subito al lavoro, conclude Nicola Terranova, per guadagnare intensità, migliorare il palleggio e continuare a crescere. Siamo sulla strada giusta.